Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Oggi mi trovo nella Bellacraft e scusate se l'audio è un pochettino peggiore rispetto a prima Ma come vi dicevo sono in una casa nuova quindi è ancora un pochettino vuota Devo comprare i pannelli e quindi per adesso abituatevici Per quale motivo mi trovo all'interno della Bellacraft ovvero il mondo di Bella Faccia? Perché ultimamente ci stiamo facendo tantissimi scherzi e volevo stipulare un contratto di tregua Per farciò ovviamente dobbiamo fargli un regalo mi sembra proprio il minimo Cioè gli faccio un regalo così che lui possa accettare la tregua Altrimenti io lo conosco potrebbe farmi un altro scherzo O potrebbe pensare che questo qua è uno scherzo Eh no non è uno scherzo voglio veramente fare una tregua dagli scherzi con Bella Faccia Quindi quindi ho pensato bene di craftargli uno dei picconi migliori in assoluto di Minecraft Chiudiamo le finestre perché sennò è in travento Uno dei picconi migliori di Minecraft in assoluto perché lui non ha ancora un bel piccone in nederite In realtà tutto il suo set di nederite fa abbastanza pietà Perché non l'ha mai ingiantato e quindi non è neanche così tanto bello Ma io so che lui oltre ad avere tantissime ricchezze ha anche dei picconi buoni Ehm dove si trovano i suoi picconi buoni? Cioè di tutto Cosa se ne fa ragazzi? Spiegatemi cosa se ne fa di 4000 pezzi di carta Cioè io non capisco veramente questo magazzino inutile Ha tutto ok però è praticamente inutile Per quale motivo c'è una spara in diamante? Ah no l'ho messa io per sbaglio Ehm ok 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 dove sono i picconi? Ecco qua vediamo Silk Touch Efficiency 5 Unbreaking 3 Mending Questo qua Ehm è un ottimo piccone ma io glielo voglio fare con fortuna Lui ce l'ha un piccone con fortuna? Mi sa di no non c'ha il piccone con fortuna Ma come non hai il piccone con fortuna? Ma bella faccia ma scusa E vabbè prima di tutto ragazzi voi lasciate un mi piace a questo video E adesso potrei anche prendergli qualche libro Cioè voglio dire non penso gli dia fastidio se utilizzo qualche suo libro no? Efficiency 4 fortuna 3 questo è un ottimo libro per fare un piccone Quindi prendiamo in prestito tre dei suoi diamanti Dopodiché cerchiamo di prendere un pochettino di legna per fare degli stick Ok ce l'ha qua una crafting C'è la crafting perfetto Ok facciamo una bella crafting E poi facciamo anche una cessa con un cartello Dove gli diciamo che questo qua è un regalo Quindi non deve arrabbiarsi Anzi è un regalo per fare una tregua su minecraft Per quanto riguarda i nostri scherzi Ok così Dopodiché facciamo anche un bel cartello Perché ormai ho imparato a fare i cartelli Ok un bel cartello bianco In segno di pace ragazzi Tipo una bandiera bianca E glielo mettiamo No glielo metto di fronte a casa Dai si 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 Sperando ovviamente che io riesca a fare un bel piccone Non è detto Magari mi esce fuori uno schifo Comunque ho 26 livelli Ci abbiamo tre diamanti Non devo far altro che fare un piccone in diamante Dopodiché enjantarlo e farlo diventare poi piccone in nederite Quindi avremo bisogno anche della nederite Che lui non ha Ovviamente Cioè lui c'ha tutto nel mondo Tranne le cose importanti Quelle non le ha mai Quindi lo mettiamo qua E gli scrivo un bel Ok scriviamo Questo Questo È un Segno di pace Tregua Ok Spero lo capisca Che glielo ho dato io Perché c'è chi altro potrebbe averglielo dato Nessuno Quindi 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 Di cosa abbiamo bisogno adesso Dobbiamo Fare degli altri livelli Andare nel neder Prendere la nederite Quindi allora sapete cosa In molti mi avete insegnato Che Se io faccio Questa è una tattica dei pro Anziché utilizzare la TNT Anche se lui comunque ne ha tantissimo Quindi potremmo utilizzare Sai cosa Io prendo la TNT Comunque stavo dicendo Che è possibile Trovare la nederite Anche utilizzando i letti Quindi metti i letti Nel neder Li fai esplodere Prendiamoci un po' di pane Li fai esplodere E puoi trovare più nederite In questo modo Ovviamente è pericoloso ragazzi Perché potreste morire Però lui se non sbaglio C'ha tantissima Tantissima TNT Oppure vabbè Ce la craftiamo Perché c'ha comunque Tantissima polvere da sparo Che dovrebbe essere Qua Dov'è Eccola qua Ok Ci craftiamo adesso La TNT E la portiamo Come si crafta la TNT Tipo così Se non sbaglio Sedici No Ne craftiamo di più Ne craftiamo molta Molta di più Tanto alla fin fine Ci fai soltanto la TNT Con la gunpowder Ci fai qualche pozione Ma comunque A lui non dispiace C'è tutte le farm del mondo Ragazzi Non vi preoccupate Che questi oggetti Se li rifai in 4-4 occhio Se ne avanza qualcuno Gliela lasciamo Non è che me la riporto indietro Ok Piccone Accendino Abbiamo bisogno di torce Io penso che siamo Ben equipaggiati Adesso cosa dobbiamo fare ragazzi Dobbiamo arrivare a 30 livelli Trovare abbastanza nederite Per fargli un piccone nederite E dopo di che Enchantiamo il piccone in diamante Gli mettiamo tutte le cose buone Uh ma che figata è quella roba là Non l'avevo mai vista Anzi andiamo a dormire prima Dicevo Gli mettiamo tutte le robe buone Nel piccone in diamante E poi lo trasformiamo In piccone in nederite Utilizzando lo smithing table Se tutto va secondo i piani Dovrei fargli un piccone Con efficiency 5 Poi unbreaking 3 Poi gli metteremo Fortuna 3 Gli metteremo Mending se possibile Dov'è il suo portale del neder? Ah no è di là È là sotto Ma che cosa cavolo sta costruendo? Perché c'è uno scheletro? Ma quello è sans? Boh non lo so Comunque come vi dicevo appunto Voglio fare il piccone migliore del mondo E io spero mi ringrazi per questo Perché non è detto Bella faccia a volte è ingrato Andiamo nel neder Uh ma che cavolo Ok ecco il suo neder Siamo con l'1.16 Devo stare attento E si entra Forse era meglio se mi portavo un altro piccone Oltre a questo Perché questo si potrebbe consumare Però vabbè non fa nulla Loro mi attaccano? No non mi attaccano Ok Dobbiamo fare molta attenzione ragazzi Dobbiamo prendere i livelli Dobbiamo prendere la nederite E poi svignarcela subito da qua Come scendo? Dobbiamo anche fare molta attenzione ai piglins Perché io non ho alcun pezzo di armatura in oro Quindi mi possono attaccare E purtroppo non sono ben equipaggiato per contraattaccarli Beh abbiamo 50 ritenenti ragazzi Quindi potremmo fare tutte le esplosioni del mondo E sicuramente riusciremo a trovare un pochettino di nederite Stare bene attento ragazzi Perché se no poi tutti nei commenti mi dite Ma Kendall come hai fatto a non vederla? Stava proprio lì la nederite Eh lo so a volte sono cieco ragazzi Quando registro i video Niente ancora nulla Andiamo di qua Ma ancora niente Allora andiamo un pochettino più avanti Siamo a profondità diamanti Quindi noi dovremmo trovare molta 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 di più Pepite d'oro Basalto Niente di buono però Oh finalmente Ok aspetta Facciamo attenzione che non ci sia della lava qua sotto Bene Uno Cavolo quanto ci vuole scavarlo Ok Vai con un piccone normale Quanto pare ci mette molto Uno Due Vediamo se c'è un altro Ti prego dimmi almeno tre dai Io ne ho bisogno di quattro Se non sbaglio per fare un piccone Dobbiamo trovarne altri due Ok No 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 fermi tutti Oh cavolo Non muoio vero? No no non è possibile No non muoio non muoio Tranquilli Ricordate ragazzi che sto usando la connessione del 4G quindi è normale che sto laggando un pochettino Non ho ancora internet in casa Io non ho mai avuto così tanta sfortuna a cercare la nederite Nel mio mondo di solito in 10-15 minuti riesco sempre a trovare un bel po' Qua zero Ok Perfetto Oh Proprio quello che ci serviva Ce ne servivano 4 e ne abbiamo trovati 5 Quindi uno è un regalo extra per lui Ottimo Adesso devo soltanto tornare a casa Farlo diventare nederite Lingotto di nederite Incantare questo piccone O magari uno nuovo Perché questo ormai è quasi consumato E quindi ci vediamo a casa di bella faccia Non ho la minima idea di dove sono sbucato Però sono sicuro che riusciremo a trovare la via di casa adesso Vai Alla velocità della luce E dopo lunghe peripezie ce l'abbiamo fatta Siamo tornati a casa sua Adesso devo soltanto rifare un altro piccone in diamante Quindi bella faccia mi spiace ma dovrò utilizzare qualche diamantino in più Sistemarglielo per bene e poi fare un piccone di nederite coi fiocchi Letteralmente perché sarà un regalo Se voi non avete ancora lasciato mi piace a questo video Beh che state aspettando Forza Dai Io resto qua Aspetto eh Ce l'ha tipo un inceneritore o qualcosa dove butterà la spazzatura Ma io gli butto tutto qua dai Nuovo piccone di zecca Le fornaci ce l'ha qua lui ok Dove sono? Ma qua ce l'hanno le fornaci una volta dove sono? Ok Ora ci serve dell'oro Che comunque lui ce l'ha Abbiamo 4 Benissimo E iniziamo a scegliere i libri migliori Perché io ho tanti livelli Però Vediamo vediamo Lui credo abbia dei libri veramente potentissimi Entriamo nella sostanza degli incantesimi E vediamo cosa esce in questo piccone Perché magari può uscire già un efficiency Uh efficiency 4 Me la rischio ragazzi Sì Efficiency 4 Unbreaking 3 Ottimo Adesso dobbiamo metterci soltanto Se riusciamo a trovare un libro con fortuna E magari uno mending E poi siamo a cavallo Fortuna 2 Fortuna 3 Efficiency 4 Cavolo Questo l'avremmo potuto utilizzare Però glielo lascio qua ragazzi Perché magari gli potrebbe servire a lui Io devo cercare dei libri separati Oh Fortuna 3 Ok Fa proprio il caso nostro Smite Smite Protection Sharpness Mending Oh mio dio Ok abbiamo tutto Abbiamo tutto Abbiamo anche 28 livelli Non appena crafto questo piccone ragazzi Possiamo finalmente Farlo diventare In nederite Fortuna Mending Questo piccone è fantastico Manca soltanto Efficiency 5 Che comunque lo può mettere lui più in là Eh Gli ho rotto l'incudine Vabbè non fa niente Con tutto il regalo che gli sto facendo ragazzi Guarda mi deve proprio ringraziare Ok facciamo così Adesso prendiamo un lingottino Ce l'ha lui la smiting table Perché se non ce l'ha La devo craftare Io non mi ricordo mai come si fa Smiting table Vediamo Serve del ferro E ok va bene Facilissimo Quindi 2 di ferro E poi un pochettino di legna Così Bom Gliela metto qua per ora Perché non credo che ce l'abbia Quindi dal momento sta qua E adesso ragazzi Gli craftiamo il piccone in nederite Più forte di minecraft Beh in realtà Per essere il più forte Dovrebbe avere Efficiency 5 Però Direi che è molto forte Sapete cosa? Così quasi Aspettate Fermi tutti Ah non c'ho più Cavolo Lo volevo rinominare Regalo di kendal Vabbè fa nulla Così va più che bene E dopo ben 50 minuti Ragazzi siamo riusciti A creare il piccone Più forte di minecraft Dai regalare Bella faccia Se solo l'avessi fatto nel mio mondo A quest'ora avrei un piccone potentissimo Però va bene Ci accontentiamo L'importante è che lui accetta la mia tregua E non ci facciamo più scherzi Per un bel po' Questo è un segno di pace Tregua Facciamo così E basta Ok Direi che è un ottimo regalo Mi raccomando ragazzi Lasciate un bel mi piace a questo video Se vi è piaciuto Iscrivetevi al mio canale Se non l'avete ancora fatto Dal vostro canale è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao Ciao